In compagnia di un ospite particolare, Barbara Lee. Chi è Barbara Lee? Oggi parliamo di matrimonio low cost, perché si sa, il matrimonio è il giorno più bello della nostra vita, però non deve diventare un salasso per il nostro portafoglio, soprattutto in questo momento di crisi. Ebbene, Barbara è ideatrice di Wedding Ten, che cos'è la Wedding Ten? Insomma, è un sito internet dove ci sono tutti consigli molto utili per tentare, per cercare di spendere molto poco per il vostro matrimonio. Anche le nonne che sono l'ascolto, mi raccomando, potete dare dei consigli molto utili alle vostre nipote. Allora, Barbara Lee è proprio l'ideatrice di questo sito, dove è possibile cercare, trovare dei consigli utili per spendere meno. Allora, Barbara, intanto ben arrivata, bentornata, perché tu sei venuta una volta per dare dei consigli utili alle nostre amiche a casa. Allora, Barbara, ci sono dei consigli che noi possiamo dare alle nostre amiche per spendere poco, perché bisogna spendere poco. In questo momento, soprattutto, tante persone vogliono o hanno bisogno di spendere poco, non vogliono rinunciare a sposarsi, perché rinunciare? No, non rinunciare, soprattutto anche con la bellezza, perché bisogna essere un giorno speciale, senza, come dire, a discapito anche un po' della qualità, perché comunque il giorno più bello della nostra vita deve rimanere tale. E allora, quali sono dei consigli che possiamo dare dei consigli utili? Allora, tu sei americana, per cui io so che in America esiste il wedding planner, cioè la persona, in realtà, che ti organizza tutto spendendo poco, perché va proprio alla ricerca delle cose che costano meno e anche di alta qualità. Allora, qui in Italia un po' questa figura sta iniziando a nascere, si sta iniziando a vedere. Allora, diamo dei consigli molto pratici, Barbara. Allora, un consiglio fondamentale che do sempre è lavorare con professionisti nel settore per essere sicuri che quello che è il prodotto finale è appunto di alta qualità e che non ci si sbaglia per strada. Perché è una giornata unica, si spera, sarà unico nella vita e si vuole avere la certezza di lavorare bene, avere il prodotto finale e quello sospirato. Sul tuo sito, wedding tent, per cui matrimonio proprio in dieci punti, ci sono dieci punti fondamentali quando uno organizza il matrimonio. Oggi, ma c'è una sorpresa, perché oggi inizieremo dagli abiti da sposa, che voglio dire, è il sogno di tutte noi donne, insomma quel giorno dobbiamo essere splendide. E allora, è lì, e anche qui si può risparmiare. Allora, che consiglio? Allora, iniziamo dall'abito, ma poi c'è anche l'auto, le bomboniere, il rinfresco, il banchetto nuziale, ma anche i fiori, le foto, le partecipazioni e insomma il posto, il luogo dove poter fare ovviamente il ricevimento. Allora, iniziamo dall'abito da sposa. L'abito sicuramente, io consiglio sempre un atelier con sarta interna, che vi sa dare i consigli giusti per come è fatta la sposa, per la sua fisionomia fisica, ma anche i colori, e che vi sa dare l'ascolto anche su quello che vuole la sposa, che tipo di abito vuole, vuole un punto di colore, vuole tutto colorato, vuole il bianco classico. Perciò è importantissimo questo. E si può spendere poco? Senz'altro. Si può, insomma, i consigli che voi date, insomma, ci sono gli abiti, gli abiti, quanto si spende, scusa Barbara? Si comincia con le nostre, eh, 400 euro in su. Da 400 euro? Anche con 400 euro si può comprare, si può acquistare un abito da sposa davvero delizioso. Bellissimo. E allora, a proposito di abiti da sposa, io e te ci rivedremo dopo, seguitemi, seguitemi perché insomma guardate, 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 la bellezza, la bellezza di questi abiti, ma io do il benvenuto già, io vedo già, una sarta, è vero, la nostra maglia di Feo, della telie, le spose di Michelle, e poi mancava la sposa, ce l'abbiamo noi la sposa, Valentina. Ah, ciao Valentina. Allora, tu ti sposerai il prossimo anno, però qua c'è una sorpresa per te, eh, perché insomma, guarda queste meraviglie di abiti che ha portato la nostra Amalia. Tu stai per iniziare i preparativi, perché insomma, ti sposerai il prossimo anno e per cui stai iniziando un po' a vedere. Esatto. Allora, te e il tuo fidanzato Matteo, insomma, farete questo grande passo e per cui, eh, da quanto tempo vi conoscete? Eh, siamo insieme da nove anni. Da nove anni, perché insomma è un fidanzamento anche lungo, per cui è arrivato il momento di dire sì. Eh, per cui, allora, tu stai vedendo un po', un po'... Sì, diciamo, ho iniziato a vedere. Hai un po' di idee? Sì, sì. Sì, eh, già ti sei fatto già un'idea? Sì, un'idea, un'idea, se l'ho, ma va perfezionata. Noi ti aiuteremo, però, perché in questo percorso noi ti seguiremo, la seguiremo la nostra Valentina, non la lasceremo qui, la seguiremo. Eh, anzi, oggi c'è una sorpresa per te, Valentina, perché indosserai un abito, un abito da sposa, che la nostra Amalia ha selezionato per te, proprio giusto per le tue misure, per il suo fisico, perché l'importante è quello, Amalia. Cioè, in una sposa, quando viene da voi una sposa, che cosa notate, come, la prima cosa che notate, cioè, per costruire, per disegnare un abito da sposa? Nel senso che, vediamo, sempre, dobbiamo far notare tanto il punto seno e il punto vita in una sposa. Esatto, perché sono i due punti che bisogna mettere, come dire, in evidenza. In una donna, sì. In una donna. Allora, Valentina, tu vieni, dammi il microfono. Allora, ci rivedremo dopo. Vestita da sposa, con bellissimo abito. Puoi uscire, vatti a preparare, grazie. E noi, nel frattempo, allora, Amalia, tu hai portato questi abiti. Iniziamo a descrivere varie linee, perché ogni donna ha il proprio fisico e per cui bisogna adeguarlo. Il proprio fisico, ogni una ha i propri gusti. Allora, iniziamo da questo abito, questo abito di pizzo, c'ha tutto il corpetto in pizzo. Il saten di raso. Il saten di raso. Allora, a chi va bene questo abito da sposa? Allora, quando ci sono le stecche, questo è un bustino, anche se è un abito intero, però, c'ha le stecche. Quindi, nelle stecche vanno bene a qualsiasi età e a qualsiasi corporatura. Fisico, sì. Perché le stecche metti in evidenza il punto vita. Allora, è il punto vita. Però tante volte, ecco, e vedo che la gonna scende abbastanza bene sui fianchi. Per chi ha i fianchi pronunciati, diciamo così, può? Sì, sì, va bene, perché mettendo il sottogonna leggermente si ampia, noi non notiamo il punto dei fianchi. Notiamo il punto seno e il punto vita. Allora, per fare questo abito da sposa, quanto tempo occorre, Amalia, per cucirlo? Sì, dipende dagli abiti. Più o meno un mesetto, più o meno. Un mese. Un mese, più o meno. Un mese prima bisogna assolutamente, no? Più o meno, sì. Anche perché poi bisogna fare le prove, quindi costruirlo proprio sul corpo della ragazza, capito? Allora, i vestiti che tu hai portato oggi, allora, da che prezzo partono? Perché poi noi stiamo parlando proprio di matrimonio allo costo e vogliamo dare anche... Allora, i nostri prezzi nell'atelier, io ti dico, più o meno, sì, dei 400 euro. Ma anche i nuovi, questi che hai portato, perché magari... Ah, sì, non sono esagerati, sì. Ad esempio, quello in pizzo, quello là, ti viene più o meno sugli 800 euro. Sì, e prezzi ancora perché appunto la nostra Barbara, la nostra Barbara ci diceva... Allora, andiamo verso lì. Sì, così ti faccio vedere un attimino. Allora, la nostra Barbara ci diceva che comunque ci sono gli abiti dai 400 euro. Questo è possibile farlo. Sì, sì, sì. Questo non tutto in pizzo, ovviamente. No, però io ti volevo far notare che anche se tutto in pizzo, sugli 800 euro stiamo. E' per questo, insomma, anche con... E' anche... Per cui anche la, come dire, la manifattura costa sì, però è un costo abbastanza relativo. Per cui è questo importante. Allora, invece, questo abito tutto di pizzo che io vedo anche qua... Con il bolerino. Con il bolerino, perché insomma le spalle vanno assolutamente coperte quando si entra in chiesa. Questo è... È un coordinato, ma chi sposa ad esempio in estate va bene anche senza niente. E va bene, sì, c'è il velo magari che copre. C'è il velo, mette una stolettina, va bene. E questo va bene. A chi va bene questo tipo di... Allora, questo, come ha detto, ti do del tutto. Assolutamente sì, anzi. Chi c'ha un pochino i fianchi pronunciati non va bene, perché accosta leggermente sui fianchi, quindi mettiamo... Perché mi mette troppo in evidenza. Ecco, metti in evidenza. E questo magari per una ragazza non troppo formosa, diciamo così. Diciamo ragazza, donna, dai, anche donna. Una donna, sì, è vero. Perché non sono solo le ragazze. È vero, è vero. Non ci si sposa più a vent'anni oggi, come oggi. Magari, è vero, al vostro atelier, insomma, le spose quanti anni hanno? Sì, diciamo, dai 30 in su. Anche, ma ci sono anche le ventenni. Le ventenni, per cui anche le ventenni. Però un abito del genere, voi non le consigliereste mai a una ragazza, una ventenne? No, anche perché lo vedo leggermente, diciamo, tra parentesi, un po' più da d'adulta. Un po' più da d'adulta, per cui anche questo è importante, perché l'occhio vuole anche la sua parte. Sì, è vero. Però, allora, ma le suocere e le mamme che vengono, no? Che mettono un po' la bocca. Ecco, la bocca, la bocca. Sì, e magari dicono, no, la ragazza sogna il vestito da cenerentola, quella, insomma, con una gonna abbastanza. Sì, diciamo abbastanza, però la maggior parte vogliono gli abiti, cioè, vengono con l'idea dicendo, voglio un abito bello dritto, invece no, si cambia. Dopo l'intossato si cambia proprio. È vero, perché voi vedete il fisico, no? Bisogna vedere l'intossato, no? No, no, ma bisogna, perché l'idea della testa non coincide mai con la realtà, nel senso che quando l'intossi, mai. Mai, questo... Io vengo con l'idea, lo voglio liscio, bello, e poi si prende tutto, di tutto e di più. È certo, perché voi ovviamente fate provare dei modelli... No, no, si prova varie linee, anche perché vedendoli indossati tu ti rendi conto veramente quello che ti sta bene. L'idea, insomma, la quale sta bene alla sposa. Allora, io invece mi sposto quest'altro che vedo, il colorato. Sì. E per cui lo richiedono colorato? Sì, colorato. Non esageratamente, ma sì. Sì, insomma, un colore abbastanza delicato. Questo è delicato, ma... Un verde acqua, più che celeste. Sì, un verde acqua. Sì. È molto delicato e lo richiedono anche. Allora, non esageratamente, ma sì. Per cui adesso sta per la tendenza. Ma non pure questo, ci sono anche i colori forti, tipo bluet, bordeaux. Addirittura. Addirittura, sì. Addirittura, adesso, la sposa colorata. La sposa colorata, sì, sì. È un po' strano. E allora, questo abito, invece, questo un po' può nascondere un po' il fianco. Sì, i fianchi pronunciati. Sì, perché avendo il sottogone leggermente più ampio, sì. E poi avendo le stecche, ti fa il punto vita. Sì, smagrisce, insomma, ci fa apparire, ecco. Smagrisce, sì. Esatto, per cui, e allora, e questo è Shantun di seta? Questo è Shantun, sì, Shantun di seta, e invece questo qua è Tulle di seta. Tulle di seta. E questo quanto ci vuole per realizzare sempre questo abito? Ma sì, il mesetto lo dobbiamo sempre mettere, più o meno. Considerare? Sì, sì, sì. Per cui, questo è anche per chi si sposa in estate, insomma, questo è il periodo giusto per iniziare a pensare all'abito da sposa. Sì. Questo sì. Allora, e adesso quest'altro, e adesso quest'altro, che è una meraviglia, guardate. Questo è tutto in organza, e questo va bene, che ha i fianchi un po' stretti, perché vedi, perché c'è questa linea leggermente avvitata, vedi. Sì, e un po' ingrossa anche, cioè le pieghe di questo vestito, no? No, perché ci sono sempre le stecche sotto, sì. Il problema è soltanto che metti in evidenza i fianchi, per cui ti ha il fianco un po' pronunciato assolutamente, no, questo abito qua, sì. Un'altra domanda, gli accessori anche, gli accessori che la sposa, giustamente perché non è soltanto l'abito che fa la sposa completa, ma sono anche gli accessori dalla collana di perle, che è un classico, diciamo, che quest'anno sta andando un po' a morire, perché preferiscono un pochino più i punti luce. I punti luce, non vogliono la perla. Per cui anche su questo voi potete consigliare bene la sposa. Sì, anche perché noi le mettiamo, le proviamo e quindi è automatico, tu vedi, sì. Come stanno, perché ogni abito, cioè per esempio un abito, abbiamo visto quello di pizzo, è già un po' composo, nel senso che è molto ricco, per cui mettere anche una collana di perle molto pronunciata, invece quella collana di perle che voi avete messo, molto piccole le perle. E questo è anche questione di gusto, perché ti piace in automatico, anche se io non metto un classico di abito e voglio la perla, vabbè, tu devi accontentare le spose, per forza. Allora, veniamo a questo. Ad esempio, questa è una linea molto semplice, questa è in chiffon, però vedi, questo sembra il corpetto che ti fa il punto vita, con queste leggermente, diciamo, tra parentesi, piegoline, ti mette tanto in evidenza il punto vita. Tanto, è in evidenza. E questo va bene anche un pochino alle formose, diciamo alle morbidose. Alle morbidose, insomma, chi è? Alle morbidose, sì. Allora, questi hanno, tu mi hai parlato di 800 euro, insomma, che è un costo già abbastanza importante. Sì, questo più o meno è sui 1.200. Questo costa di più, perché costa di più? Eh, forse il tessuto, non lo so. Il tessuto, forse la stoffa. La stoffa. Ma c'è un abito che tu hai portato qua che costa poco? Cioè, nel senso, a parte quello degli 800 euro per cui di pizzo, in questo momento no. In questo momento no. No. Sì, siamo tutti con i prezzi. Però questo non dipende dal modello, cioè... Da che cosa dipende? Un pochino dalle stoffe, perché magari invece della pura seta mettiamo un pochino la mette in metà, hai capito? Ah, per cui è qualcosa di sintetico, non pura seta, magari ci mettete qualcosa di sintetico. Però allo stesso tempo è bello, è bellissimo. Cioè, nel senso, non mettete tutte cose naturali, però, voglio dire, per quel giorno, magari... E i 400 euro si possono, non è una cosa banale. Allora, parliamo del velo. Il velo, sì. Perché sta tornando, non sta tornando di moda, le spose lo vogliono, non lo vogliono. Sì, su 10, 8 vogliono il velo. Davvero, eh? Sì. Per cui c'è un ritorno. Il velo è la sposa. Ah, è vero. Sì, quando arriva, infatti, sull'altare che lo sposo toglie dal proprio viso. Io adesso ho portato un velo corto, ma la maggior parte vuole anche il velo lungo, con lo strascico. Ah, tipo principessa proprio. Sì, proprio la principessa, perché quando c'è lo strascico vogliono il velo grande. Allora, l'altra cosa che mi incuriosisce è proprio lo strascico, perché tutti noi sogniamo di avere... Sì, però lo strascico sta bene, come dire, alle donne alte, no? No, no, no. Questa è una mia... perché ho sempre paura che magari lo strascico possa... Oppure, delle volte capita, chi ha, per dire, l'abito leggermente ampio, dice, oddio, mi accorcia, no? No. Non c'è di più l'abito, l'abito più... Allora, quali consigli dobbiamo dare? Allora, che lo strascico tutte se lo possono permettere, cioè assolutamente non c'è... C'è un minimo di strascico, sì, perché questo è un minimo. Poi ci sono anche strascico... Vabbè, proprio da... no, no, non esageriamo, la principessima... Sì, però c'è chi arriva, chi dice, io voglio... Sì, la principessa di tutto di più. Giustamente, perché ognuno è la principessa, il sogno, no? Cioè, giochiamo, abbiamo sempre giocato con le barbie vestite da sposa, perché non continuare a giocare e sognare così. Per cui, allora, il consiglio è che lo strascico non è vero che sta bene solamente alle persone, alle donne alte, ma insomma... Oppure come l'abito leggermente ampio sta benissimo, perché ti slangia di più. Per cui... L'abito più, diciamo, scivola a te, più ti accorcia un po'. Più ti accorcia, per cui, insomma, le cose troppo affusolate non vanno bene per chi non è molto alta, per cui è molto meglio scegliere un vestito abbastanza ampio. Allora, i costi... Ampio no, ma pure più o meno questa ampiezza qua va bene, perché ci sono anche quelle più ampie, eh? Questo sì. Con molto di tutto di più, dico io. Allora, io gli sto dicendo della mamma e della... Sì, mette bocca, tanto pure. La suocera di bocca. La suocera, perché perlomeno, io non so a tutti gli altri posti d'Italia, ma la maggior parte qua, come al sud, è la suocera che paga l'abito e quindi vuole mettere tanto bocca. Ah sì, e sceglie proprio e insomma... Qualcuna guarda e dice, vabbè, paga lei e si sta zitto, ma qualcuna si fa sentire, dice, sai, nel mio sogno... E certo, decido io. Decido io. Decido io. E quale abito scegliere. Le mamme in meno, ma le suocere mettono tanto bocca. Senti, allora, abbiamo detto degli accessori, ma l'accessorio è un abito e anche... Io vedo, per esempio, dei fiori meravigliosi che avete appuntato proprio sull'abito e anche questo deve andare d'accordo un po' con il bouquet, che poi avrà la sposa. C'è anche una sinergia tra voi e il fiori. Sì, ma infatti loro quando vengono l'abito, poi in automatico fanno il bouquet. Poi scegliere il bouquet. E queste cose così, ci sono molte le spose che, insomma, pretendono anche queste cose. Sì, ma adesso io ho messo sempre tutto colore su colore, ma c'è anche chi mette il colorato. Ah sì? Hai capito? Sì, un abito per dire un bordeaux, cioè qualsiasi colore che loro preferiscono vengono. Tanto è vero che è stata una sposa che abbiamo voluto mettere in girasole. Al girasole. Eh, perché il suo tema era il girasole. E magari, insomma, è il simbolo. Poi da lì partire, magari fare anche in chiesa, magari l'adobbo floreale con il simbolo. Sì, sì, appunto, il simbolo era il girasole, quindi in automatico ha fatto anche il buco di girasole. Quindi è un pochino il gusto. Ecco, insieme alla collana di perle, il classico, il punto luce, che insomma adesso magari le spose preferiscono, gli orecchini anche sono importanti, no? No, però l'orecchino non deve essere un orecchino molto importante. No, diciamo sempre tipo clip. Eh, questo è. Allora, e qua io invece, questo è il primo che abbiamo visto, che è quello che mi ha colpito di più, devo essere sincera. Sia per il colore, perché è un ecru particolare. Sì, è un bello avorio, sì. È un avorio, insomma, non è... Ho visto anche questa sorta di stola che si mette sulle spalle. Perché la maggior parte di chi non mette il velo, chi sposa in chiesa, deve stare un pochino coperta. Allora... Quindi si mette una stola, sia questa stola qui che quella a conchiglia che abbiamo visto di là. Allora, adesso ci spostiamo, Amalia. Tu non ti preoccupare di Walter, Walter parla sempre. Per cui, anche se urla, in realtà urla per me, forse probabilmente perché sono un po' sorda, obiettivamente non sento. E raggiungiamo qua, sul divano rosso, la nostra Barbara. Dove mi metto io? Allora, vieni qua, magari qui sulla sinistra. Allora, Barbara, abbiamo visto questi abiti che effettivamente, insomma, sono bellissimi, uno più bene dell'altro. E appunto non si spendono cifre esorbitanti, no? Devo dire che poi l'abito un po' si può anche affittare, oltre che acquistare. Però l'acquisto dell'abito, come dire, è un ricordo che poi ti rimarrà per tutta la vita. Anche perché, come hai detto, questi costi che sono abbastanza, diciamo, dai 400 in su, quindi preferisco... E certo, perché poi anche l'affitto costa, si può fare. E questo è importante, per cui è importante anche le spose, magari anche le nonne, le mamme che ci stanno seguendo, farsi un giro su internet. A parte, insomma, la nostra wedding tent, le nostre spazio di miscele sono qua a disposizione, per cui per carità... Però, internet è una grandissima fonte, però anche lì c'è di tutto e di più, no? Insomma, però tu mi dicevi che bisogna affidarsi a un professionista, Barbara, assolutamente. Io credo fermamente in questo, su tutta la gamma del progetto Sposarsi, perché si va sul sicuro. Ed è importante, perché è un giorno unico. E poi, insomma, si può anche risparmiare. Allora, la spesa, la spesa più grossa che uno deve affrontare, come ho detto anche prima, è il banchetto, è il ricevimento che uno vuole offrire, no? Ai propri amici, ai propri familiari, perché è un momento unico. Insomma, gli sposi sono al centro dell'attenzione e vogliono giustamente offrire. Anche lì, come si può fare per risparmiare? Il risparmio è facile quando si ridimensionalizza le aspettative. Magari, invece di fare un gran banchetto di matrimonio, si fa un bel pranzo. Un bel pranzo che ha le stesse caratteristiche di quello che può essere un banchetto, che inizia con un buffet, degli aperitivi, poi si va seduti a tavola per fare il pranzo classico a tavola e si si alza dopo per i dolci, sempre a buffet. A buffet. Allora, questo è il buffet. Poi ci sono ovviamente le partecipazioni, le bomboniere. Anche qui c'è di tutto e di più, no? Però è un costo, anche questo, che incide molto sul budget finale. Si può risparmiare in che modo? Di nuovo con i professionisti che guidano la scelta, perché loro sanno suggerire esattamente la qualità. Ricordiamo che il professionista, cioè il wedding planner famoso, non è un costo in più, è una persona che guida, che guida davvero nella scelta, nelle cose più economiche. Allora, ma io vedo, ma che bellezza, guardate! Valentina, già sei pronta, attenzione! Ma guardate che bellezza! Vale, come ti senti? Ti senti già sposa? Allora, rimani chiedi perché ti senti... Questo vestito sta benissimo, una scelta eccellente. Questo vestito è splendido e questo è un modello che sta bene a Valentina, per il fisico ovviamente di Valentina. Allora, che cos'ha di particolare questo vestito, Amalia? Allora, vedi, c'ha queste bellissime stecchi in evidenza, quindi come ho detto prima, mette in evidenza il punto vita, poi si allarga leggermente e quindi Valentina non le ha, però chi ha i fianchi morbidosi sta bene. Sì, Valentina insomma è magra, per cui sta bene, per cui c'è un fisico... E il velo, vedi? E il velo fa sposa. E il velo fa sposa, per cui è il velo che sta... Anche se non metti, come ho detto, con l'anico, se vale, già il velo ti... Il velo non solo, ma io vedo anche che il bustino comunque è già ricco, per cui mettere qualcosa in più al collo sarebbe un po' troppo, per cui il punto luce lo dà lo stesso corpetto, no? Il corpetto che illumina anche il viso di Valentina. Bella Valentina. È vero, sta bene lì, infatti anche Amalia, hai visto? Bella, bella. Si è trasformata, non che fosse prima un ranocchio, diciamolo, Valentina comunque la sostanza c'è, però è vero, questo abito, per cui non sarà questo probabilmente l'abito che ce l'erai, non possiamo dirlo, perché non si deve dire. Anche perché Matteo in questo non ti segue, spero. No, 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 come tutti gli sposi, come tutti i mariti, tutto è gravato. Cioè la tradizione... La tradizione, però gli uomini mettono bocca però sul ricevimento e sulle bomboniere, su cosa? Sul ricevimento, sulla musica, sull'auto. Un po' sulle foto, perché spesso agli uomini non piace molto magari fare le foto, perciò possono cercare di guidare la situazione lì un po'. Un po', eh, soltanto in questi casi loro mettono, sì, insomma, che danno un po' fastidio. No, fastidio no, mai. No, mai fastidio. È una cosa condivisa, no? Stiamo andando verso... Le peggiori litigate si fanno quando si organizza il matrimonio, mi dicono. Quando si organizza il matrimonio si litiga sempre, non si sa per quale motivo, però perché, eh, a volte sì, può accadere. Può accadere, perché comunque magari uno vuole un certo tipo di musica e un'altra persona, la sposa ne vuole tutt'altra, per cui è... E tu un po' la linea del vestito potrebbe essere questa, vale? Sì, sì, potrebbe essere. Potrebbe essere, questo insomma ti è piaciuto l'effetto che ha avuto su di te? Il bustino, mi piace molto. Per cui, e già, già una prima cosa l'abbiamo quasi sistemata, non del tutto, però insomma la strada è ancora molto lunga perché non finisce qua, ovviamente. Allora, Barbara, l'altro aspetto che le spose e gli sposi devono vedere, qual è secondo te un aspetto importante nella preparazione di un matrimonio? Oltre a rivolgersi, ovviamente, l'abbiamo detto tante volte, ad un professionista, c'è un aspetto che gli sposi devono vedere? Secondo me è molto importante essere realistici e fissare subito un budget all'inizio, pensare bene veramente quanto ci si vuole spendere e poi lavorare con chi l'aiuta a rispettare questo budget. Ok, tu, allora, nella wedding 10 ci sono questi 10 punti nell'organizzazione del matrimonio, tu dici che queste 10 cose che si possono realizzare, si possono realizzare con 15.000 euro. Cioè, dall'affitto dell'auto, un'auto che deve essere, insomma, uno si deve anche accontentare, non può avere, come dire, una limusine, no? Ci possiamo accontentare, magari in un bel lato, un'auto che ci viene a prendere. E poi ci sono i fiori, in questo pacchetto tu che cosa consigli in questi 15.000 euro? Tu organizzi un matrimonio in 15.000 euro. Esatto. Allora, che cosa c'è in questi 15.000 euro? Nel pacchetto classico c'è l'abito, l'auto, le bombogniere, il servizio catering, i fiori, le foto. Pure il servizio catering per quante persone? 100 persone. Eh, per cui, insomma, è importante. Per cui, insomma, tutto il pacchetto, ovviamente, 15.000 euro, che, insomma, normalmente per un matrimonio si spendono dai 27.000 euro in su, purtroppo. Ci sono tante coppie che si indebitano anche per questo, magari chiedono un finanziamento, e non si deve fare. Oggi come oggi non si deve fare. Allora, bentornati in studio, il matrimonio, il giorno del sì, il giorno più bello della nostra vita. E beh, non è finito qua, abbiamo visto gli abiti, abbiamo parlato un po' dell'organizzazione in generale, insieme alla nostra Amalia, insieme alla nostra Barbara, ma ora è spuntata la nostra Valentina Spuntarelli. Ciao, certo. E perché l'acconciatura è anche importante, un'acconciatura che si può fare anche in casa, bolendo. Bolendo, c'è il fatate. Non è proprio così, però ci sono il fatate e si può risparmiare, guardate che si può risparmiare. Intanto io ricordo anche il sito, giustamente, di Valentina Spuntarelli, lo facciamo vedere sicuramente, dove ci sono anche dei consigli utili su come fare alcune acconciature. Sì, sulle acconciature, alcuni tipi di acconciature. Allora, per Valentina che cosa hai preparato? Io già vedo un po' il boccolo già pronto, no? Allora, il boccolo un pochino già l'abbiamo preparato, però facciamo finta che lei fosse a casa e non avesse bisogno di un parrucchiere, per cui in realtà deve trovare una metodica per poter arricciare i suoi capelli. E a questo punto torniamo ai vecchi metodi tradizionali. Le nonne dicevano arriccia i capelli con gli straccetti, per cui magari volendo, lei potrebbe lavarsi i capelli la sera prima del matrimonio, lasciarli leggermente giù. Ma il giorno stesso? Ma il giorno stesso perché sarebbero troppo puliti, per cui volerebbero troppo come oggi. Come oggi, che sarebbe molto pulito il capello, assolutamente no, deve essere un po' sporco, ma non lo sai, deve essere un po' pesante il capello. E per cui bisogna rotolare questi capelli in alcuni straccetti di stoffa, o altrimenti con i metodi moderni con dei rolli. Con dei rolli. Per cui diciamo una pseudopiega già l'avremmo ottenuta. E poi dobbiamo considerare il fatto che lei in precedenza, abbiamo visto, aveva il velo in testa, per cui dobbiamo comunque fare un supporto per poter mantenere questo velo. E per fare questa cosa è indispensabile fare un pochino di conottonatura, in modo che il velo possa incastrarsi, il pettinino nel velo possa incastrarsi in questi capelli cotonati. Per cui vanno alzati un po' questi capelli? Vanno leggermente alzati, leggermente diciamo, tra virgonetti, picciati. Ah, ok. Li fermiamo con una mollettina. Questa è l'acconciatura, una delle acconciature più semplici, diciamo così. È una cosa molto blanda, molto semplice. L'importante è che la sposa sia ordinata con il viso scoperto. Perché tante volte la sposa non si vuole neanche vedere, con i capelli troppo, se non è abituata magari ad andare dal parrucchiere e vedere una piega, troppo piega, magari un capello naturale ci sta anche bene. Molto più naturale. Poi negli ultimi anni la tendenza è proprio quella di avere delle acconciature molto naturale, non troppo elaborate, troppo cotonate, troppo lisce e perfettamente pettinate. Molto naturale. Questo è importante. Allora, adesso lo stiamo appuntando anche davanti. Adesso appuntiamo un pochino i capelli lateralmente, di modo che il suo viso possa rimanere scoperto. Oggi poi siamo particolarmente agevolati, data la bellezza della modella. Esatto. Oggi è molto semplice. È molto, molto semplice. Per cui basta poco. Poi un'altra volta parleremo anche del trucco, perché il trucco è anche importante. Molto importante. In una sposa un trucco deve essere semplice, non deve essere molto importante, molto pesante. Esatto. E allora, anche perché le spose di oggi, soprattutto se sono una persona giovane, come nel caso di Valentina, non ha bisogno di grandi attifizi. Di grandi attifizi. Allora, e poi stiamo tutte appuntando i capelli di Valentina, perché per scoprire un po' il viso. Un pochino il viso. Poi possiamo anche sfruttare alcuni accessori. In questo caso noi oggi abbiamo dei cerchietti. Che bello quel cerchietto. Dei cerchietti con dei brillantini, dei diademi, molto importanti, perché l'acconciatura è molto semplice e naturale, per cui la esaltiamo ancora di più. Allora, per te vale, perché tu ti stai facendo fare, sei proprio una modella in questo caso. Allora, che cosa sogni in realtà? Come vedi i tuoi capelli? Insomma, sei propensa più per un'acconciatura, proprio acconciatura o una cosa un po' più naturale? Non lo so, sono molto combattuta ancora. Diciamo che la nostra cara Valentina è tornata da poco dall'Australia, dove è stata tre mesi, per cui è tornata a Roma e adesso sta nel pieno delle organizzazioni del matrimonio. Non è semplice, per cui adesso vediamo, adesso tu stai riflettendo, adesso vediamo Valentina se ti ha contento o meno, perché la cosa che ti sta facendo in realtà è molto semplice. È certo, è molto semplice, poco poco elaborata, perché non ci dimentichiamo che comunque lei dovrà affrontare tutta la cerimonia, dovrà fare delle foto che poi rimarranno, per cui bisogna comunque dare un'impronta abbastanza importante. L'acconciatura deve rimanere per tutto questo lasso di tempo, non indifferente. Anche le foto sono importanti, per cui è giusto, soltanto per quello, poi in realtà gli occhi, io mi sono sempre domandata, gli occhi in realtà sono puntati tutti sulla sposa. Lo sposo, poverino, non è che non se l'opina molto, no, è giusto, è vero, è giusto. Almeno quel giorno è il giorno della sposa e la sposa deve essere perfetta. Allora stiamo vedendo, in questo caso tu hai messo il cerchietto sul... Ho messo questo cerchietto con dei punti luce, in modo che anche il suo viso prenda ancora più luce, ho scoperto il viso che è bellissimo ed ho accompagnato tutti i capelli da un lato, da una parte, di modo che quando metterai il velo non sarà troppo piena, troppo carica. Verrai saltata alla sua bellezza così naturale. Così naturale, certo. Allora, anche le forcine che tu stai mettendo, ma sono, questo è un compito, la sposa non se lo può fare da sola, ci deve avere magari una mamma, una cucina, una zia, un parente. Una mamma, un testimone che le aiuta un pochino, anche perché qualsiasi molletta, qualsiasi cosa che bisogna mettere non dovrà essere visibile all'occhio, per cui va. Però è molto semplice, diciamo, non è... Allora, ma insieme al cerchietto non dobbiamo mettere il velo, o mettiamo uno, o mettiamo l'altro, o tutte e due. No, si mettono tutti e due. Allora, questa preparazione viene fatta appositamente per poter mettere il velo. Il velo però serve solo per quando si entra in chiesa. Una volta uscita la chiesa, fatte alcune foto, il velo si toglie. È vero, per cui ci deve essere qualcosa che illumina ancora di più. Anzi, direi ancora di più. Negli ultimi tempi, diciamo, c'è la moda di fare una doppia acconciatura. Per cui che succede? Entra la sposa in chiesa con il velo, il futuro marito la scoprirà, poi, fatta la cerimonia, fatta alcune foto, togliamo il velo e lei, in questo caso, per esempio, rimarrà con i capelli semilegati in questo modo. Dopo la cena, dopo il pranzo, magari quando festeggerà con gli amici, i parenti toglierà quest'altro e i restanti mollette e rimarrà con la piega sciolta, più naturale. Più naturale, ancora più naturale. È come se in varie fasi va a svilupparsi anche... E per cui, insomma, la cosa bella anche di chi fa le acconciature è quello di creare una sorta di... Un filo conduttore dall'inizio alla fine, insomma. A questo modo che... Le spose che cosa vogliono? Vogliono ancora... Ti chiedono una cosa, come dicevi adesso, la tendenza è più sul naturale che invece... Sì, la maggior parte vogliono delle acconciature naturali, anche perché comunque seguono la moda. La moda non è più come una volta molto elaborata. Cioè, è elaborata nel dettaglio, però in realtà è molto naturale. Allora, anche il fatto dei capelli, schiarirsi i capelli, fare i colpi di luce, eccetera, eccetera... Per il giorno del sì, questo dipende molto anche dal gusto della sposa. Dipende dal gusto. Però quanto tempo prima il capello deve essere trattato? Allora, se il matrimonio è in una stagione estiva quasi, insomma, verso maggio-giugno, è bene fare il colore per i capelli molto vicino alla data della cerimonia, perché d'estate con il sole poi il colore tende a smontarsi, a schiarirsi. Però questo è sempre un gusto molto particolare. Per esempio, in questo caso, lei ha uno chatouche sulle punte molto naturale. Bello, infatti. Vediamo il suo colore naturale che è completamente diverso dal colore delle lunghezze delle ponte. Però, diciamo, questa doppia schiaritura, a livello di acconciatura, ci aiuta a livello percettivo, diventa ancora più bella, più morbida, più elegante, perché c'è contrasto. C'è contrasto. E solitamente i contrasti vanno fatti, perché è molto più elegante, sia se il colore è chiaro, sia se il colore è sicuro. Grazie a nostra Valentina Spuntarelli, grazie a nostra Valentina. Non è finito qua, noi ti seguiremo, mica ti lasciamo sola. Grazie alla nostra Barbara Lee, alla nostra Amalia Di Feo, per i consigli che ci avete dato sull'organizzazione del matrimonio.